Quando mi trovo in posizione laterale rispetto al mio avversario, sopra di lui, un attacco di cui esistono tantissime varianti e tecniche diverse è l'hardlock, la leva dritta al gomito. Adesso ne vedremo due possibili varianti, una sul cosiddetto near arm o braccio vicino a noi, rispetto a dove io sono seduto, e ho il braccio lontano, ripeto, sono due delle possibili migliaia di varianti. Allora l'avversario, lui eserce una pressione su di me, spinge, cambio base, isolo questo braccio usando il corpo, uno, due, adesso ho isolato l'altro braccio, attenzione, l'orecchio, la pressione della testa blocca il braccio di Raphael contro il mio omero, alzando il mio gomito glielo stendo, cerco di tirarlo quando sono molto basso perché lui ha mobilità nel gomito, ora il braccio è molto steso, quindi l'alterazione è fragile, mi abbraccio, stringendo gli addominali, glute e tutto insieme, attacco il braccio, ripetiamo, spinta su, movimento di bacino, chiudo, isolato il braccio, orecchio, abbraccio, braccio teso, va. Grazie. 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 Grazie.